Signore e signori ci hanno prestato motociclette da un valore fino a 20.000 euro per farvele vedere invece questo ammasso di ferraglia grezzo indiano no quindi è con un po' di rancore che vi presento la nuova Himalayan 450. Se con la vecchia Himalayan vi potevate sentire Steve McQueen nella grande fuga con questa siete più Eddie Murphy o Tom Selleck di Magnum P.I. su una spiaggia californiana ma questo non è importante per valutare una motocicletta alla fine ognuno ha il suo stile. Quando vi troverete al bar con i vostri amici non potrete vantare cavalleria non potrete vantare sospensioni non potrete vantare nemmeno una protezione aerodinamica superfina ma potrete vantare l'inarrestabilità. C'è il motore che cresce un po' di cilindrata raffreddato a liquida adesso le sospensioni Showa purtroppo non regolabili e il TFT dove è possibile anche attaccare il navigatore. Partiamo dalla ciclistica abbiamo una ruota da 21 e una ruota da 17 davanti abbiamo un freno ti frena con un disco da 320 by Bree o qualcosa di simile non conosco benissimo la marca e c'è sempre questo parafango molto caratteristico e sempre con la parte alta. Dovevamo però segnalare una cosa che ci è sembrata un po' fatta male diciamo che sono le pedaline del passeggero che sono completamente in metallo quindi quando piove potreste ritrovarvi con la fidanzata che non c'è più perché è scivolata comunque si scivola sui pedalini di metallo e soprattutto perché richiudendoli sbattono contro la sua staffa di ferro graffiandola stessa cosa è ancora più grave sulla pedana del pilota perché quando sbatte sbatte sulla barra del freno e dall'altra parte batte sempre sulla barra che tiene la pedana non va bene ci voleva un fine corsa sicuramente. Una caratteristica dell'Himalayan che mi piace tantissimo è questo para serbatoio in metallo è pronto a difendervi da qualsiasi caduta e a difendere soprattutto il vostro serbatoio è ancora più difesa da questo paramotore che mi piace tantissimo e a volte è più importante avere una cosa del genere che una leva regolabile perché questa qua è grande e grossa forse anche pesante però purtroppo non è regolabile né questa e nemmeno la leva della frizione. Un'altra novità secondo me è questo forcellone lunghissimo che avrete notato in molti che secondo me gli darà un tantissima stabilità invece dietro verrete notati per la presenza degli stop integrati nelle frecce manca lo stop. Dietro in queste fantastiche frecce si presenteranno anche gli stop e le luci di posizione. Una cosa molto particolare a me sinceramente non piace però degustibus non disputandum est. Potete avere sia i cerchi tubeless sia i cerchi con camera d'aria secondo di quale parrocchia siete. La sella invece è bella ma la mia ragazza mi ha detto che è troppo poco dire che è bella quindi ve la faccio vedere ed è abbastanza sostenuta e larga pronta per portarli il più lontano possibile anche perché lei consuma pochissimo. Anche quella del passeggero è abbastanza generosa e il portapacchi può portare solamente 7 kg c'è scritto qui ed è di serie. Poi il nostro microfono ha smesso di funzionare ma noi ispirati dalla piccola Himalayan quindi inarrestabili dobbiamo continuare così. Abbiamo un mini cupolino non regolabile e un paracoppa parecchio carino anche se non troppo spesso invece non voglio commentare il clacson cromato molto tamarro india style. Ora è arrivato il momento di vedere tutto questo insieme come si comporta. Dicono che questa motocicletta sia stata sviluppata e testata sulle piste dell'Himalaya. Noi oggi per voi l'abbiamo portata sulle sabbia e sulle pietre dell'Etna. I blocchetti sono originali ci vuole un po' per abituarsi però queste due levette sono uniche credo non ci sia niente nel panorama motociclistico se non della stessa Royal Enfield e come ripeto ci vuole un po' per toccare le frecce. TFT Royal Enfield. Allora non so perché diventa bianco e nero secondo condutrici di lui credo che sia una questione di luminosità. Adesso è nero lo vedete in nero. È molto semplice ed intuitivo. Infatti con la M che vi abbiamo fatto vedere prima nel tasto laterale potete entrare nelle quattro mappe disponibili che sono performance con l'ABS, performance senza ABS, eco, ABS on, eco che non si sta vedendo, ABS off. Queste sono le quattro mappe. C'è la temperatura, l'orario, i chilometri, le varie spie che vi si potrebbero accendere durante un viaggio, però alla fine diciamo che è carino, molto originale e c'è anche la possibilità di poter attaccare il navigatore. E' diventato bianco non appena ti si è avvicinato. Il prodotto è pazzo. Aspetta, continua. Secondo me c'è un sensore. C'è un sensore che non senza però. Allora signori eccoci finalmente alla guida dell'Himalayan. Allora si sente un... tu quando accendi si sente un rumore della pompa della benzina e fino a questo niente di particolare. Ma quando l'accendi voi non lo sentirete. Continua a sentire come un fischietto di sottofondo. Non so se essere preoccupato. Ma non credo. Sembra come una ventola. Quando si parla di motocicletta divertente è che il cambio praticamente è una seta. Non si sente. E' qualcosa di meraviglioso. Anzi è molto anche preoccupante perché non capisci se hai cambiato se non guardi qua il numerino sul TFT. La cosa più bella ancora è che questa moto riesce a salire di quarta. Cioè sull'Etna nonostante l'altezza e nonostante tutto sale di quarta. Un 450 che sale di quarta. Quindi le sensazioni di guida sono che secondo me è una moto che ha un telaio, delle sospensioni pensate molto di più per la strada. Però riesce a essere leggera e divertente. Quindi quando la porterete in fuoristrada avrete un grosso vantaggio. Quello che non ho capito io è perché non riesco a farla girare come il KTM. Nonostante il suo peso, riusciva a farla derapare ma non girare su se stessa. E questa è una cosa che mi uccide. Sulla sabbia va anche bene. È un po' troppo puntata in avanti. Sulle piedre dell'Etna, quelle belle che escono sui sentieri, ti sente tanto la botta. Quindi magari una sospensione più morbida avrebbe dato un po' più comfort. Chiaramente il fatto che sia sostenuto su strada ti dà tutta quanta un po' più di sicurezza, sincerità. Tra l'altro vedete quando frena lei non scende come fanno le Maxi Enduro. Bella sostenuta. Stessa cosa per il monodietro che ho addirittura ammorbidito. Niente, è proprio roccia. E quindi queste qua sono le mie sensazioni su sospensione ciclistica. A questo punto anziché dire così diamo dei voti alle varie cose come facciamo sempre. Così ci capiamo un pochettino meglio. Allora, le sospensioni io ho dato 6 che per quello che mi piacerebbe usarlo a me, il fatto che non sia un regolabile e che non posso ammorbidirmele quanto voglio o farle diventare più rigide quando mi è necessario, secondo me è un limite. Anche se le sospensioni si sono comportate alla fine bene, cioè nel senso sufficientemente, infatti io gli do la sufficienza. La protezione dell'aria, gli diamo un 5 perché non ce n'è al momento e mi sarebbe piaciuto poter avere qualcosa di più grosso per poter viaggiare. I freni, ecco una nota dolente. Ragazzi, io agli freni devo dare un 6 meno, proprio vogliamo essere buoni. Perché il freno davanti, secondo me, non è modulabile bene. Io lo sento strano, come se fosse, non ve lo so dire, di contro c'è il freno di dietro che è stupendo, sembra troppo grosso e forse è troppo mordente. Però quando freni e vai a toccare il freno di dietro la motocicletta proprio si pianta, no si chianta è siciliano, si pianta. Le finiture, volevo mettere un 5 perché qui c'è un pochettino una confusione di cavi che chiaramente non so come avrebbero potuto fare altrimenti. Però, visto che abbiamo provato altre motociclette che erano più pulite, sì che erano delle ad dentro, questa qua è una mezza scarenata. Però insomma c'è un pochettino più di confusione. Poi ci sono tante piccole saldature che non sono pulitissime, tante piccole soluzioni metalliche che non... Però, insomma, ci stanno nell'economia del mezzo, ci stanno queste cose qua. Ma non nell'economia nel senso che è economica, nel come è pensata. Avete capito? Spero di sì. Le gomme non ne possiamo parlare perché Francesco gliel'ha messa in belle tastellate perché lui se la porta a fare un po' di fuoristrada. Almeno lo ha comprato per questo perché gli dà una bellissima sensazione in fuoristrada. E' super felice dell'acquisto di questa motocicletta. Io sono felice per lui e sono d'accordo perché secondo me le motociclette piccole con queste potenze ti fanno divertire tantissimo. Motore? Io gli do 7. E voi dite, Dio Gianluca, ma non ha motore? Ha 40 cavalli, non cammina. Ecco proprio perché è un motore piccolo per quello là che ti dà, per come è salito sull'Etna, anche su strada. E' impressionante. Cioè tu riesci a sentire la spinta con una restabilità 10. Come si dice, concretezza 20. Perché, cioè, come ve lo posso spiegare, una motocicletta, questa motocicletta, è quello che ci servirebbe. Vedete credo, il concetto è avere quello che ti serve, non di più, non di meno. Quindi a me piace, cioè proprio rappresenta forse quella mentalità indiana della calma e della pazienza, no? Un po' in nu. Senza velocità, senza fretta. Però allo stesso tempo dico che è divertente, quindi calma, pazienza e divertimento. Qualcuno mi dice, Dio Gianluca, ma con tutte le cose negative che hai detto, tu l'acquisteresti? Anzi, mi piacerebbe averla nel mio garage. Non ve lo... Non ve lo nego. A chi la consiglierei? Eh, la consiglierei a chi comincia. Secondo me non è niente male, magari veramente, se avete proprio necessità, prendete un gufolino più grande. O a chi ha una motocicletta troppo grossa e non la vuole andare a distruggere sulle pietraie, le trazzere in giro. Secondo me questa qua, con due ritocchi, insomma, con due personalizzazioni, può fare il suo lavoro. I 200 kg, vi giuro ragazzi, oggi, anche nella sabbia, qualche volta ce l'ha cercato di sbandare, di buttarmi a terra. Però, niente. Le mie gambe riuscivano a sostenerla anche in difficoltà. E questi sono tutti quanti punti a suo favore. L'altezza della setla gli ho dato il voto? No, 7. L'altezza della setla, gli siamo 7. Perché? Perché è buona. Io non so, dietro. È sostenuta. Però non mi sento di dare un voto almeno di 7, perché è bella, larga. Ci sono tante motociclette dello stesso prezzo che hanno molti più accessori, optional. Quindi non vi so dire se conviene o non conviene. Però quello che so è che è molto leggera, che ti dà una sensazione di divertimento veramente. E che quindi io approverei. Anche a Catania, dove i ragazzi, è vero che non ce l'hanno prestata, però si sono comportati da signori. Sono stati molto gentili, molto comprensivi e ci hanno spiegato le motivazioni. Cosa che non tutti hanno fatto. Quindi un applauso a loro e gli facciamo questa pubblicità gratuitamente. Cosa che vi devo dire. Sembrerà strano, ma a me piacciono queste cose piccole che tirano che si sente quel rombo del motore. Perché loro sono delle piccole eroine dei giorni nostri. Ma quale è il motore 1200? 4,50. E godi da paura. Solamente per il sudore che ho buttato oggi. Tu dovresti seguirmi, mettere mi piace, lasciare un commento. Fare in modo che più gente possibile possa fare tesoro dei miei consigli. Quindi io vi saluto. Spero di non dover aggiungere nient'altro stasera quando vedrò i video. E ci vedremo alla prossima puntata o prova, non lo so. Vi ho salutato. Lo so che me lo sono dimenticato. La sella è regolabile in due altezze. No me lo dobbiamo ricordare. No me lo so che mi piace. No me lo so che mi piace. No me lo so che mi piace. No.